Prima di tutto l'intenzione è legata al discorso sicurezza, cioè le telecamere sono un efficace strumento evidentemente di controllo della sicurezza, poi declinabili e declinate anche al decoro urbano, che succede? C'è già un sistema di telecamere che è attivo in città, viene governato dalla Polizia Municipale che ha una centrale da cui sorveglia. Il patto che l'amministrazione chiede di sottoscrivere ai cittadini, che in termini del tutto facoltativi non c'è alcuna imposizione, è una specie di baratto di beni contro servizi, cioè io privato posso mettere una telecamera ma sulla mia proprietà. Attraverso invece questa forma per cui io cedo le immagini a prioristicamente alla Polizia Municipale, io avrò vigilanza sul territorio, potrò alzare l'occhio della mia telecamera dando un contributo a tutta la popolazione in termini di sicurezza, quindi variamente declinata, i bambini che vanno in giro, per esempio le persone di sera, ci sono vari episodi anche di recente che a Vercelli hanno comunque destato una sorpresa, una città tranquilla che però ogni tanto ha qualche tipo di accento, così c'è un governo maggiore del sistema. Inoltre declinata sul decoro urbano evidentemente avrà la funzione prima di tutto di suasore da parte di chi commette questo tipo di atti che inquinano la buona volontà dei tanti che fanno una raccolta differenziata puntuale. Ecco, il sistema è un po' questo, cioè dare la possibilità al cittadino, perché l'amministrazione non ha i fondi se no ben volentieri, di sottoscrivere questo accordo per cui beni contro servizi, tra l'altro ottimizzato perché evidentemente non tutti anche volendo dovranno mettere telecamere, per il semplice motivo che non ci sarà la necessità. Se una telecamera è ben congegnata e con il conforto della Polizia Municipale che sta seguendo questo aspetto, evidentemente le caratteristiche tecniche saranno concordate, evidentemente ci sarà un'ottimizzazione anche delle spese legate all'acquisto dei prodotti. Intanto per i condomini, perché devo dire questo, in fase di avvio dell'idea che è stata discussa con gli amministratori, con tutti gli amministratori sono stati invitati e tutti l'hanno giudicata una buona idea, in fase di avvio di questa sperimentazione alcuni hanno già dei sistemi di telecamere installati. In questo caso si tratta semplicemente di stabilire un accordo con l'amministrazione perché entri nella disponibilità delle immagini. Non ci sono problemi di privacy, assolutamente, perché le immagini vengono catturate o detenute direttamente dalla Polizia Municipale. Io credo, Polizia Municipale, io credo da cittadino che non sia importante stabilire il chi da parte mia, ma sia importante avere un servizio, avere la garanzia che comunque la mia strada, la mia città sia sorvegliata. Grazie.